Immaginabile che sono così, con uno stadio così, con una coreografia così, probabilmente avessi sognato anche un gol o quantomeno aiutori. Non posso dire niente perché loro hanno fatto tutto. Nel riscaldamento mi è emozionato perché non si guarda in ogni stadio i tifosi così, veramente hanno fatto tutto quello che i calciatori volano. Con un mondo argentino?